Ai ai, a Bassano la raccolta differenziata non va più di moda. Per il secondo anno di fila, dopo alcuni anni in cui erano stati raggiunti faticosamente risultati importanti, cala la differenziazione dei rifiuti e scende quindi anche il loro riciclo. Un vero peccato perché la produzione del secco indifferenziato è cresciuta nel 2020 di un 10% rispetto al 2017, anno top per quanto riguarda il riciclo bassanese. A conti fatti vuol dire che si passa da una produzione di 111 kg per ogni cittadino a una di 122 kg pro capite. Alla faccia della tanto sbandierata linea green dell'amministrazione di Elena Pavan, anche se effettivamente questi dati corrispondono al si cambia utilizzato in campagna elettorale dall'attuale sindaco. E sono in molti a chiedersi se proprio un calo di pressione da parte dell'amministrazione Pavan su questo tema possa essere fra le cause di un crollo nei dati della differenziazione dei rifiuti. Calo che ha causato la produzione di 670 tonnellate di anidride carbonica in più rispetto ai livelli raggiunti solo 4 anni fa. E, giusto per capirci, una tonnellata di CO2 è un cubo di 8 metri di lato. Per assorbire quel che è stato prodotto in più in questi due anni servirebbero 40.000 nuovi alberi. Resta il fatto che Bassano, fino a poco fa esempio virtuoso in Veneto e in Italia, sta perdendo molte posizioni nella classifica dei comuni più attenti al riciclo. Insomma, tanti bei discorsi sulla sostenibilità, ma sono ora i bassanesi a chiedere che azioni abbia messo in campo il sindaco Elena Pavan per proseguire sulla rotta tracciata in precedenza, o quali azioni non siano state messe in campo. Riciclando, pardon, cambiando l'ordine degli addendi, il risultato non cambia.